Il moglie di primavera, cartellone promosso da un plitreviso che riunisce i più importanti eventi dedicati all'asparago, è sospeso per il secondo anno consecutivo, ma l'attività delle proloco e del territorio non si ferma e ha pensato a divalorizzare i pleribati turioni con due videoricette dedicate agli asparagi IGP. C'è il moglie di primavera, purtroppo ancora una volta per il secondo anno consecutivo siamo costretti a rinunciare a tante nostre iniziative. L'auspice è che ben presto possa passare questa pandemia e che tutto possa ritornare alla normalità. Sicuramente il moglie di primavera di per sé ha un periodo molto limitato perché l'asparago non dura tutto l'anno. Con la produzione adesso stiamo andando a pieno regime, abbiamo la fortuna che i produttori ci sono organizzati con la consegna a domicilio. Nel limite delle possibilità l'attività di promozione ha visto piccoli passi in avanti e rimane pronta a ripartire appena sarà possibile. La novità, se vogliamo chiamarla così, di quest'anno abbiamo avuto due classi quarte del Cerletti che sono venute a fare un laboratorio a cielo aperto dove abbiamo fatto vedere ai ragazzi la raccolta e anche il confezionamento dell'asparago. La Prolobio di Morgano insieme all'amministrazione comunale e consorzio dell'asparago di Badova e IGP sicuramente organizzeranno un qualche cosa in modo simbolico ma comunque qualcosa ci sarà di sicuro.